Rapidamente ci sono altri due ospiti che volevo presentarvi prima di una sorpresa finale e visto che avete in sala chiamo Rosa Morevole che è candidata alla presidenza del quartiere e che ce lo diceva prima Sandro, Salvini, a qualcuno gli dovrebbe dire due cose Salvini uno che ha totalizzato più presenza a Bologna che a Strasburgo due che non è il candidato sindaco di Bologna, cioè il candidato sindaco di Bologna è un altro esponente della Lega ed è un motivo per il quale noi cerchiamo di dimostrare che non siamo la stessa cosa perché alcune cose che abbiamo sentito dire da alcuni consiglieri della Lega una per tutte, il problema del welfare e dell'immigrazione si risolve accendendo i forni la risposta che noi diamo a queste cavolate che sono state dette è che prima di accendere qualcosa bisogna accendere il cervello e parlare e sapersi esprimere quindi Rosa, tu hai... non sapeva giustamente, Rosa è stata... è come una sorpresa, ma qui è tutto una sorpresa il tema è una delle battaglie, nella battaglia è il quartiere è il quartiere Santo Stefano e Armerio, che è l'unico quartiere in questo momento non della sinistra non della coalizione centro-sinistra, ecco, come facciamo a conquistarlo e qual è l'idea che noi vogliamo portare all'interno di questo quartiere e all'interno della città metropolitana in Bologna? Bene, grazie per la sorpresa perché chiaramente parlo proprio all'impronta perché non avevo preparato nulla diciamo che la battaglia su Santo Stefano è la battaglia perché mentre sul livello sindaco sappiamo che bene o male non ci sono candidati su Santo Stefano è un po' come Davide contro Golia, mi verrebbe da dire per una serie di motivi, perché Santo Stefano innanzitutto è diventato un quartiere diverso da quello di Faghenz per cui chi ha governato fino adesso Santo Stefano in qualche modo è vissuto un po' di rendita da un certo punto di vista, non c'erano grosse problematiche oggi Santo Stefano è cresciuto ed è arrivato all'università cioè quindi ha inglobato tutta la parte più critica di Bologna quella dove ci sono appunto Piazza Verdi perché Salvini non so peraltro dove si posizionerà in Piazza Verdi perché tra una rivendita di cibo cinese perché c'è un mercato temporaneo i lavori di spazio per un pacco ce n'è molto poco ma evidentemente saranno in pochi mi auguro Santo Stefano appunto crescendo e prendendo questa parte diciamo di zona universitaria prende una parte molto molto critica io come mi sono mossa in questa campagna elettorale ho camminato molto a piedi, ho incontrato moltissime persone i commercianti, le persone sono andate nei luoghi dello spaccio nei luoghi dove ho trovato i segni dei pusher sono andata a vedere lo sporco, le situazioni problematiche e parlando con la gente lentamente da un lato mi caricavo di più cioè non mi sono abbattuta, non mi sono caricata di più durante questa campagna devo dire che per una settimana dopo che la federazione del Bologna mi ha chiesto, Marco e il segretario Criteri mi hanno chiesto di partecipare appunto di candidarmi su Santo Stefano per una settimana ho ricevuto solo delle gran pacche sulla spalla ma più che pacche sulla spalla erano dei pat pat no? come si dice, come per dire eh vabbè poverina ma camminando ho preso più grinta e adesso quando una persona mi dice ah qui tanto siete tutti uguali dico no guardi non siamo tutti uguali per risolvere e per iniziare a cambiare ci vuole una certa capacità e qui bisogna mettersi a lavorare con le persone con le persone che stanno sul territorio e trovare insieme attraverso proprio reti istituzionali personali e di relazione proprio la modalità del cambiamento non è solo la militarizzazione che risolverà un problema di ordine pubblico perché la sicurezza è il motto della destra ma lo è anche il nostro perché noi non possiamo fare a meno di recepire per esempio quello che ci dicono le persone che hanno timore a volte a percorrere certe parti della città però noi lo faremo con lavorando diciamo sia sull'aspetto diciamo classico della sicurezza ma soprattutto sul versante sociale per ricreare una situazione che migliori complessivamente la vivibilità dei quartiere per farlo diventare tutto un buon quartiere e poi per dare veramente un segnale di cambiamento che o lo facciamo adesso o non lo facciamo mai più siamo in un punto quasi di non ritorno quindi ti devo ringraziare di questa esperienza anche se posso solo invitare tutte le persone di Santo Stefano ormai lo faccio ormai anche quando incontro qualsiasi persona per strada a votare per noi, per il PD, per Amorevole perché altrimenti questo quartiere potrebbe non avere chance grazie e in bocca al lupo in bocca al lupo anche a tutti i candidati in consiglio di quartiere che vedo qui, vedo Nara Berti, vedo Sara Dattore, vedo Giacomo Moncada vi saluto e vi faccio a tutti un grandissimo in bocca al lupo non vi cito uno a uno perché altrimenti qualcuno me lo perderebbe ma davvero questo è il senso di una campagna collettiva che stiamo portando tutti avanti ringrazio anche l'assessore Nadiamonte al pari di buco di rivolgere un grande attimo per tutte le cose da parte di questa amministrazione a partire dalle politiche giovanili grazie grazie a voi grazie a voi per essere stata a fianco di questa bellissima avventura